Ci sono grossissime opportunità per quanti vogliono investire nel nostro territorio e per chi crede nella potenzialità dell'aeroporto Piola Torre. A dichiararlo il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, facendo riferimento alla nuova area di quasi 85 ettari transitata al comune, in uso nelle proprietà del demanio della regione. Queste zone sono ricadenti all'interno dell'aeroporto e si sommano alle precedenti di 22 ettari che ospita attualmente al suo interno una zona ZES, una zona economica speciale di quasi 29 ettari. Siamo pronti, spiega il sindaco Schembari, ad accogliere gli investitori industriali attirati tra l'altro dagli sgravi fiscali molto vantaggiosi previsti per queste zone. Nella zona nord sarà presto attivo, prosegue ancora, un grande magazzino merci che rientra però in un progetto più grande, un progetto cargo che permetterà di rendere ancora più attraente e funzionale l'aeroporto. Con la sua specializzazione e rispetto a quello catanese, l'infrastruttura di Comiso si distinguerà in positivo, formando, conclude il sindaco, la rete degli aeroporti della Sicilia orientale. Insomma, è cambiato tanto dal 2019, anno in cui viene siglato un protocollo d'intesa tra la difesa e la regione Sicilia, con il quale è stato sancito il passaggio definitivo all'area ex USAF, ad area demaniale della regione. L'aeroporto, quindi in passato, base militare, adesso aperta al traffico civile, oggi è uno scalo di 252 ettari. Subito dopo la firma del protocollo, sono state messe in atto delle iniziative per sfruttare la potenzialità non indifferente, con enormi ricadute positive sul territorio, i cui effetti cominciano ad essere visibili. Il primo cittadino ricorda inoltre quanto fondamentale è stata ed è la collaborazione interistituzionale, sia in termini burocratici che finanziari, che si è attivata per l'aeroporto tra governo regionale ed amministrazione. Il sindaco spiega ancora che si tratta di un progetto ampiamente condiviso, che punta al futuro con il coinvolgimento dell'imprenditoria locale. L'aeroporto, come si saprà, è nato nel 1939, intitolato al generale Vincenzo Magliocco. Strategico risultò durante il secondo conflitto mondiale e con esso la data del 26 maggio del 1943, giorno in cui si diede inizio all'operazione ASCII con l'arrivo nell'isola degli Alleati. Fu poi ricostruito nel dopoguerra e utilizzato come base militare fino al 1972. Potenziato negli anni Ottanta, fu usato per stoccaggio di testate nucleari a sostegno dell'Alleanza Atlantica. Terminata la guerra fredda, il blocco sovietico perse importanza. Fu ripreso nel 2004 ed entrerà in gioco con il primo volo civile nel 2007 col nome Pio Latorre, vittima di mafia, grande politico e sindacalista della storia italiana.